Qual è la proposta di sistema costruttivo realizzato da casseforme in EPS per la realizzazione di edifici ad alte prestazioni e ad alta qualità? Ciò che riscontriamo dal mercato è una sempre maggiore richiesta di alte prestazioni degli edifici e di alta qualità degli edifici. La nostra proposta, che è in questo senso, permette di ottenere questi risultati abbattendo i costi di costruzione grazie all'industrializzazione che noi diamo della tecnologia in stabilimento e viene portata industrializzata nel cantiere. Questo permette quindi di ridurre tantissimi tempi di costruzione e di ridurre a zero gli sprechi di materiale sempre nella fase di cantierizzazione. Aumenta tantissimo anche la sicurezza in cantiere. Il risultato che si ottiene è quindi un edificio ad altissima prestazione energetica e sismo resistente, che quindi supera il concetto di antisismica ma rende un edificio totalmente indenne alle scosse sismiche e sicuro e durevole nel tempo. Tutto questo si può ottenere a costi di costruzione molto molto bassi e competitivi. Tra i nostri prodotti, oltre ai sistemi cassero che si occupano quindi della struttura perimetrale e dei solai, abbiamo anche qui in fiera esposto i decori di facciata architettonici, elementi decorativi che noi realizziamo su progetto architettonico in stabilimento, sagomati a disegno e che vengono poi applicati in facciata. Anche questo è un sistema economico veloce, rientra nella filosofia aziendale, quindi è un prodotto estremamente adattabile, prefabbricato sempre in stabilimento e quindi riduce moltissimi tempi di esecuzione e i costi.